Ciao ragazzi, buongiorno a tutti quanti, eccoci tornati con un nuovo video. Oggi è venerdì, ormai ci incamminiamo verso il weekend, tante cose di cui parlare come sempre, ma come sempre, anche prima di cominciare, mandiamo la nostra sigla. E allora ragazzi, buongiorno, buongiorno, eccoci tornati appunto con un nuovo video, video del venerdì, ieri ci siamo presi una pausa semplicemente per chiacchiare tra noi luce, grazie, ecco qua. E niente, allora oggi abbiamo notizie un po' diverse tra loro, partiamo, come sempre, calciomercato, perché so che vi piace intanto le tazze, l'avete visto, le tazze, non chiedete più delle tazze perché ci sono e quindi le tazze sono arrivate. Allora, iniziate a lasciare lo like e iscrizione, mi raccomando, like e iscrizioni. Allora, partiamo dal mercato, Oilund Napoli, De Laurentiis prepara l'assalto, il piano del patron e le cifre. Avevamo già chiarito questa situazione di Oilund un po' in generale, però pare che il Napoli voglia accelerare. De Laurentiis darà mandato a Giuntoli di trovare un nuovo centravanti e il Napoli ha già individuato da tempo il suo obiettivo in Oilund dell'Atalanta. Il danese, che in nazionale ha realizzato cinque gol nelle ultime due gare, viaggia già verso una valutazione intorno ai 50 milioni. Mamma, 50 milioni è tanto, eh. Al di là di tutto, sapete che il Napoli si sta muovendo anche al di là del discorso Osimene. Giusto per essere chiari, il Napoli si sta muovendo a prescindere. Se Osimene parte o non parte, è uguale. E' uguale, però 50 milioni è tanto. Oilund è un bel giocatore, assolutamente sì. Però 50 milioni inizia ad essere belli, eh. Belli massicci. Vabbè, vedremo come andrà a finire questa situazione. Parlando poi di Osimene, infatti, condizioni Osimene, persa la mascherina portafortuna, oggi torna ad allenarsi in gruppo. Vediamo che ci dicono. Riguardo le ultime notizie, ovviamente, di Osimene, il Napoli lo rivedrà in allenamento già oggi. Infatti, il calciatore tornerà ad allenarsi in gruppo. Il calciatore ha smarrito la mascherina che ormai è diventato un portafortuna e un simbolo da mesi. In giornata sarà realizzata sempre dall'ortopedia Ruggiro una nuova che abbiamo qua. Eccola qua. La mascherina nuova. Ce l'abbiamo qua con noi. Eccola qua. La mascherina nuova per Osimene, ovviamente, ragazzi. Si scherza, questa è una mascherina da tifoso. Questa è una mascherina da tifoso. Vedete, ecco qua. Vedete quanto è bello? Ecco. E ce la mettiamo qua perché è il portafortuna. Portafortuna. Poi, andiamo avanti. Andiamo avanti. Perché ci parla, viene ai microfoni, un nostro carissimo giocatore che ha fatto tanto per il Napoli? Perché parliamo di Marek. Marek chiaro. Marek chiaro Amsic che ci dice Napoli nel mio cuore, ovviamente. Dopo lo scudetto si può puntare alla Champions, lo botca faro e sulla festa in città. Quindi varie cose, in realtà, ci ha detto il nostro Marek chiaro. Vediamo quante cose. Guardate quante cose. Allora, su Napoli-Milan gli chiedono. Napoli-Milan, lui dice, è sempre stata una sfida molto impegnativa. Non credo che ci saranno cali di concentrazione, sono partite che si caricano da sole. Sia in campionato che nella doppia sfida di Champions, la concentrazione sarà al massimo. Non sono certo che vedremo tre belle partite. Il gruppo è molto unito, si vede, c'è grande attenzione e cura dei dettagli. Spalletti, sotto questo punto di vista, sta facendo un grande lavoro. Poi gli chiedono, ovviamente, di Lobotca. Lui dice, è il faro del centrocampo. Conoscevo le sue potenzialità, è cresciuto tantissimo e sono contento che abbia rinnovato il contratto con il Napoli. Potrà fare grandi cose in azzurro. Non sbaglia mai un passaggio, è sempre pronto a fare pressing e apre il gioco per la fase offensiva. Anche Zielischi è molto importante per la manovra d'attacco. Kwaraskelia ha grande fantasia e un bel vedere. Osiman è maturato tantissimo ed ogni goal che segna non è mai banale. Spero che possano restare ancora tutti a Napoli perché sono giovani e possono aprire un grande ciclo. Assolutamente, sottoscrivo tutto quello che ha detto il capitano Marecchiaro. Poi gli chiedono, più che altro, del discorso della festa in città. E lui dice, sono contento per la gente di Napoli, per la società, il presidente, il mister e i ragazzi. È una soddisfazione che meritano tutti, ma sono anche convinto che questo Napoli possa regalare grandi soddisfazioni anche in Champions. In realtà già lo sta facendo. Non bisogna concedere nulla agli avversari perché si può arrivare molto lontano. Napoli è dentro di me, appena possibile ci torno, la sento sempre come casa mia. Da Marecchiaro, vedete, io lo chiamo sempre Marecchiaro, da Marecchiaro ai vicoli dei quartieri al centro storico. Castel Volturno e tutte le zone della città. Dintorno inclusi sono posti magici che restano nel mio cuore e in quello della mia famiglia. Che bello, il grande Marecchiaro Amsic. Spero che un giorno entri nella dirigenza di questo Napoli, come tanti altri giocatori hanno fatto per le loro ex squadre. Sarebbe bello vedere un Marecchiaro, no? L'ho sempre detto, chissà. Poi parliamo un po' di notizie generiche, nel senso, qua si parla di Lecce-Napoli. Ora, dopo domani ci sarà ovviamente Napoli-Milan. Settimana prossima, sabato, alle ore 18, ci sarà Lecce-Napoli. E ci dicono la decisione dell'osservatorio. Tifosi napoletani solo, però con Fidelity Card e nel settore ospiti. Vediamo. Arriva la decisione ufficiale da parte dell'osservatorio per Lecce-Napoli riguardo le misure di sicurezza che saranno prese per la partita di Serie A della prossima settimana, sabato. Arriva il comunicato del ministro dell'interno sulla partita di campionato dove vengono analizzati tre punti importanti per la partita di venerdì 7 aprile. Venerdì. Che senso venerdì? Scusate me. Scusate un attimo, tutto live, perché io mi ricordo che il Napoli... Ah no, è vero, gioca di venerdì, era giù, era giù. Venerdì, scusate, errore mio. Lecce-Napoli è venerdì perché poi c'è la Champions, giustamente, giustamente, c'è la Champions, c'è la Champions. E quindi, venerdì 7 aprile, vendita dei tagliandi per i residenti della regione Campania e la regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva e società calcio Napoli. Due, impegno di un adeguato numero di steward e tre, rafforzamento dei servizi anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio come previsto da specifiche disposizioni di settore. Queste sono le prevenzioni per eventuali cose che potrebbero accadere. Poi, facciamo un passo indietro perché si parla un attimo di Raspadori e poi si parla solo di Napoli-Milan e Milano-Napoli. Allora, per quanto riguarda Raspadori, ci dicono Raspadori recuperato, Spalletti ha deciso per il Milan. Vediamo. È stato recuperato Raspadori che ha finalmente svolto l'intera seduta in gruppo. Infatti, Spalletti ha deciso che il giocatore andrà in panchina domenica contro il Milan dopodomani. Dopo l'infortunio accusato il 16 febbraio, ora è finalmente tornato di nuovo a disposizione per il rascio finale di stagione. Quindi, io sono contentissimo perché Raspadori è un grande giocatore. Molti di voi mi chiedevano Raspadori quando torna, Raspadori quando torna. Ecco qua, Raspadori è tornato e ci sarà da dopodomani in panchina col Napoli. Poi, Napoli-Milan-Champions. In questo caso parliamo un attimo di Champions. Napoli-Milan-Champions League, nuovi biglietti disponibili dalle dieci dettagli di stamattina, ovviamente. L'SSC Napoli comunica che per la gara Napoli-Milan, ritorno dei quarti, quindi si parla dell'ultimo scontro di quest'anno tra Napoli e Milan, nel ritorno dei quarti finali di Champions, in programma il 18 aprile allo Stadio Maradona, a partire da questa mattina, alle ore dieci, sarà messa in vendita un'ulteriore quota di taglianti degli anelli inferiori di curve e distinti. Perché quest'anno, sapete, soprattutto nell'ultimo periodo, si stanno avendo un po' di problemi con i biglietti. Quindi, fortunatamente, la società in questo caso si è mossa. E sono usciti altri biglietti per la terza partita, praticamente, il ritorno Napoli-Milan. Perché c'è prima Napoli-Milan e campionato, dopo domani. Poi, vabbè, poi ci sta il Lecce, poi c'è Milano-Napoli, e poi, vabbè, poi ci sarà il ritorno. Ma non mi ricordo con chi giochiamo all'intermezzo. Però poi ci sta, l'altra settimana ancora dopo, il ritorno di Napoli-Milan. Poi, nuovi biglietti Napoli-Milan. Vediamo che cosa ci dicono. No, questo è lo stesso discorso di prima. Biglietti Napoli-Milan-Champions. Però qua ci parlano dei malumore dei tifosi per la scelta della società, di quella che vi abbiamo raccontato poco fa. Non quello che si aspettavano i tifosi del Napoli per la vendita dei biglietti di Napoli-Milan di Champions League. Il club ha tenuto tutto top secret per le modalità della vendita libera fino all'ultimo e per quanto riguarda l'obbligo della Fidelity Card, come abbiamo letto poco fa. Per chiudere il video di oggi con Napoli-Milan, tanto per cambiare, Spalletti prepara una mossa sorpresa per disorientare Pioli. Quindi si parla di domenica sera, di questa domenica sera, della partita di campionato. Come riportato, mister Spalletti sta pensando a qualche novità per sorprendere il collega Pioli. Quella di domenica sarà una sfida utile anche per studiarsi in vista della sfida europea ed il tecnico del Napoli vorrà provare a non scoprire tutte le carte. Per questo motivo, riportano le testate, non è da escludere qualche novità di formazione in casa Napoli, a cominciare da Oliveira, che appare in vantaggio, quindi solo di ballottaggio, su Mario Rui. Nonostante l'uruguayano sia di ritorno dalle fatiche con la nazionale, a differenza del portochese, i suoi centimetri potrebbero rivelarsi molto utili contro la fisicità del Milan. In attacco, invece, appare scontato l'utilizzo dal primo minuto di Politano al posto di Lozano per mettere in difficoltà Teo Hernández. Quindi, attenzione, diciamo che sono i classici ballottaggi che noi facciamo ogni weekend, sempre, da sempre. Quindi non è niente di troppo nuovo. Però, vediamo, vediamo. Allora ragazzi, il video di oggi finisce qua. Ah, tante notizie diverse. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate i like, mi raccomando, il supporto, le iscrizioni, le iscrizioni, supportate il canale, mi raccomando, perché stiamo facendo tante belle cose, le tazze, le tazze, eh, che domenica vedrete. Detto questo, io vi auguro un buon proseguo di giornata e noi ci vediamo, ovviamente, domani mattina con la vigilia di Napoli Mila. Non ve la perdete, domani mattina vigilia Napoli Mila. Ciao ragazzi. Ciao.